Che è successo? Hanno investito Babbo Natale sulla famiglia Con tutti i sacchi Era mezzo morto Era ambriaco secondo me Sa dove era ambriaco? Diva dirlo che Babbo Natale è morto È morto Il vestito Stava sulla salaria Babbo Natale Era andata a trovare la signorina Ma adesso basta Un investito Anni Danaro Relazioni Raccordo E poi viene a casa Del canaro e della bigotta E che gli insegnano a tua figlia Babbo Natale è morto È morto Andata andata Secondo me sto male E poi un'altra cosa bella Amore io ti chiedo perdono Tu sei bella come il sole amore Tu sei una di storie vera Tu quasi perché c'è la parte Quella un po' borgatata Non basta scherzare Ok A nonno non si dice A nonna A nonna neanche Non è italiano Non è italiano Non è italiano Non è italiano Come chi pare e piacere Non correggere le persone Vabbè io li correggo Perché non è italiano Correggere È rimasto paralizzato È rimasto paralizzato Babbo Natale È rimasto paralizzato Babbo Natale Abbiamo dolci importanti A casa di Cicciolo La bomboniera Che non è la zanzaniera Ma poi la cosa importante La cosa bella È che la bigotta Si è messa D'abito lungo Buona sera Buona Natale Buona Natale Buona Natale Buona Natale Che donna di classe Buona Natale Questa bigotta Stasera a mezzanotte Lucrezia C'è un'aria C'è un'aria un po' pesante Canaro Che ha fatto? Vuole Stasera a mezzanotte Tutti dal bambinello A San Pietro Por No No Canaro Tanti Tanti Cari umori A tutti quanti E anche Dal Canaro E viva la vita E viva l'abito lungo D'abico Babbo Natale comunque è morto Mamma mia Babbo Natale è morto Hanno 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 ammazzato Pablo Pablo vivo